A partire dal 30 settembre ogni lunedì sarà attivo il nuovo sportello sociale della CGL. Questo progetto sarà attivato in tutte e nove le sedi del sindacato presenti sul territorio provinciale ed è stato realizzato grazie al fondamentale contributo dello SPIL Sindacato dei Pensionati. Il servizio è rivolto ai cittadini più vulnerabili con l'obiettivo di farli sentire meno soli e più supportati dalla pubblica amministrazione. Apriremo da lunedì 30, un giorno a settimana, in nove delle nostre sedi provinciali un servizio di ascolto in particolare dei pensionati e delle pensionate ma di tutte quelle persone, di tutte quelle famiglie che vivono in una condizione di fragilità con il duplice obiettivo di essere gli interlocutori che possono provare ad aiutare le persone a muoversi nelle maglie della pubblica amministrazione per ottenere ciò che già gli enti mettono a disposizione delle famiglie che hanno persone con fragilità e che non sempre i cittadini hanno contezza e consapevolezza di ciò che gli enti possono offrire loro. Il segretario generale della CGL di Teramo Cordone ha sottolineato l'importanza di questa iniziativa evidenziando che in provincia ci sono 28.000 pensioni di disabilità di cui 2.500 percepite da minori e 13.000 associate a indennità di accompagnamento. Lo sportello sarà gestito da pensionati volontari che metteranno a disposizione le competenze acquisite durante un corso di formazione specifico per il progetto. L'altro e non secondario è quello di avere degli elementi per svolgere una contrattazione sociale e territoriale in cui CGL, Cisle, Will, in cui sindacati maggiormente rappresentativi possono sedere con gli enti che gestiscono le risorse per il sociale e per avere gli elementi per calibrare meglio quelle che sono la distribuzione delle risorse e quindi avere anche gli elementi, scoprire quali sono le fragilità che il sistema dell'assistenza sociale presenta sul nostro territorio.